La sensibilità è bassissima, bisogna incrementarla, ha avuto la prima intuizione che la prima forma di incrementare la sensibilità della luce è il pappone di iodio, quindi iodio d'argento, ioduro d'argento è già molto più sensibile dalla luce. La prima fase si tratterà di esplosione, insomma, in pratica c'è, adesso si trovano, fortunatamente queste bacinelli, mi sono andato a procurare, non è che sia semplicissimo di trovare queste, costano. Quello che ha preso piede veramente è stato il gruppo. Il gruppo è una sostanza estremamente tricolosa, molto corrosivo anche, viene adoperata una scatola, che non può essere operata naturalmente, una scatola quasi identica alle dimensioni, solo che ha una bacinella dove io metto la mia soluzione di gruppo. Il gruppo deve essere un portamorto di suizio, ci sono vari sistemi, il sistema classico che abbiamo deciso.